tra ma se sono un cuoco come divento uno chef beh tanto direi che possiamo andare a sentirci l'episodio precedente del mio podcast e lì io dico quali sono per me le differenze tra un cuoco e uno chef e questo ovviamente fa già pensare a cosa potresti fare per diventare chef se sei cuoco allora adesso quello che si fa ovviamente parte dal presupposto che si condividano le differenze tra cuoco e chef le riassumo velocissimamente per me uno chef è un cuoco che usa la testa detto ciò poi vi rimando appunto all'altro episodio li chiarisco un po meglio scontato che la maggior parte gli chef sanno cucinare e i cuochi sanno cucinare per definizione se non sono cuochi ma perché esisterebbe uno chef che potrebbe non saper cucinare sì esatto esistono ristoranti in cui esistono chef che non sanno cucinare però sono chef lo stesso i cuochi cucinano meglio degli chef detto ciò cosa devi fare per diventare chef se sei cuoco allora intanto abbiamo due aspetti uno è tecnico pratico e l'altro è invece legale lo chef deve imparare a coordinare gli altri cioè io da uno chef mi aspetto che sappia gestire le persone che lavorano con lui non tutta la cucina perché in quel caso uno chef di cucina le persone che lavorano con lui quindi se sei lo chef agli antipasti devi saper gestire le persone che lavorano agli antipasti se sei lo chef ai primi devi saper gestire le persone che lavorano ai primi se sei lo chef ai secondi devi saper gestire le persone che lavorano ai secondi e se sei lo chef di cucina devi saperle gestire tutti gestire che vuol dire per esempio anche selezionarli per esempio formarli per esempio coordinarli per esempio evitare che si facciano male per esempio sincronizzarli tra di loro perché i piatti vengano pronti con certi tempi eccetera eccetera quindi un corso di gestione del personale dici come un corso ma quello non lo dovrebbe fare chi lavora all'ufficio personale no lo devi fare pure tu se vuoi essere uno chef uno chef secondo la mia definizione per cui lo chef è un signore che oltre a cucinare gestisce gruppi di lavoro piccoli o grandi che siano va bene ma io cucino da vent'anni quindi i miei colleghi li so gestire sì certo infatti lo vedo tutti i giorni in cucina che persone cucinano benissimo e non sono assolutamente capaci di gestire gli altri cioè loro sono capaci di cucinare ma non sanno far cucinare gli altri e mediamente spesso poi se la prendono pure con gli altri perché gli altri non sanno cucinare invece uno chef deve imparare un mestiere cioè amministrare le altre persone è a tutti gli effetti un vero mestiere non è che tu a forza di cucinare 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 un giorno diventi gestore di persone che cucinano per niente infatti alcuni ci arrivano e altri no e chi non ci arriva più delle volte perché gli mancano certe basi se qualcuno gliene insegnassi poi ci arriverebbe va bene quindi fatti un corsetto un corsetto di lavoro di gruppo coordinamento lavoro coordinamento colleghi coordinamento brigate chiamalo come vuoi un corso in cui ti si insegna a coordinare le persone che lavorano con te poche o tante che siano al limite anche solo due però anche quello bisogna saper fare poi ti serve un corso di cucina creativa ma non un corso di cucina creativa in cui ti si insegna a creare uno specifico piatto ma un corso in cui ti si diano i principi generali della creazione di piatti perché? perché molti si aspettano che uno chef sappia creare un piatto cioè se tu sai fare 10.000 ricette ma sempre solo ricette che qualcun altro ha scritto e tu di tuo non sai creare niente beh forse meglio impari non ho fantasia non importa perché saper creare piatti non vuol dire necessariamente essere fantasiosi cioè ci riescono anche persone che fantasie non ne hanno purché ovviamente qualcuno gli abbia insegnato gli aspetti teorici della creazione dei piatti poi se c'hai un po' di creatività e fantasia ovviamente è meglio però le basi ti serviranno lo stesso poi altro aspetto fondamentale la conoscenza tecnica delle attrezzature che usi cioè lo so che il forno lo sai usare nel senso che l'accendi lo spegni regoli il vapore e così via ma conoscere tecnicamente il forno sapere quali sono i componenti come funzionano i principi generali eccetera eccetera diventa fondamentale se tu il forno lo vuoi utilizzare al meglio una cosa che a me capita frequentemente entrano nei ristoranti e hanno un rational però lo accendono lo spengono e utilizzano le ricette che ci sono impostate dentro se tu gli dici come si rigenera una lasagna ti rispondono dicendo usando il programma di rigenerazione della lasagna sì ho capito ma quanto vapore in che percentuale di vapore che temperatura tu lo sapresti fare se non ci fosse quel programma e molti mi rispondono 180 gradi per 10 minuti ok questo è un modo per rigenerare le lasagne ma non è il miglior modo il miglior modo è un altro in realtà e uno o lo sa o non lo sa tutte le attrezzature devi sapere i morti e i miracoli dell'abbattitore del frigorifero ma che c'è da sapere del frigorifero ecco appunto se mi fai una domanda del genere vuol dire che forse è meglio che questo corso lo segui perché invece del frigorifero ci sono un sacco di cose da sapere non basta solo sapere a che temperatura deve stare e come si apre il portello per metterci dentro la roba esistono corsi del genere a dire la verità è un po' difficile trovarli però qualcosa si può fare in Italia alcuni fanno corsi di questo genere il più delle volte privatamente nel senso che nel ristorante chiede ad un tecnico un corso ma non un'ora con un'ora non fai nulla cioè quell'ora che ti fa il tecnico quando ti porta l'attrezzatura non ti illudere che ti basti cioè quello è il minimo indispensabile in più è gratis quindi non ti puoi certo aspettare che ti tenga lì due giorni va bene conoscenza di tutte le attrezzature poi quello che ci serve è la conoscenza delle basi della cucina cioè io conosco molti cuochi che cucinano perfettamente ma cucinano con dei criteri che gli sono stati insegnati da altri cuochi ma non hanno le basi quindi se tu gli dici va bene come si fa a rosolare loro ovviamente sanno rosolare magari rosolano pure meglio di me ma se tu gli chiedi gli aspetti scientifici della reazione di Maillard e gli chiedi quali sono gli elementi indispensabili perché la reazione di Maillard avvenga beh l'unica cosa che ti sanno dire è la temperatura forse tra l'altro invece no bisogna dare oltre quindi un minimo di conoscenza scientifica degli aspetti di cucina questa è una cosa adesso purtroppo perché ho sentito il bisogno di fare quest'audio a parte il fatto che alcuni mi fanno spesso queste domande perché invece io vedo che cuochi continuano a seguire il corso di cucina sottovuoto il corso di affumicature il corso di e così via e continuano a mettere formazione su formazione su formazione su formazione e però restano sempre cuochi cioè restano sempre persone che sanno cucinare e non sanno invece quali sono gli altri aspetti tipo appunto la gestione del personale che invece rientra nell'essere chef rispetto all'essere cuoco va bene questo per il piano tecnico pratico adesso vediamo invece gli aspetti legali ma io quando mi posso chiamare cuoco e quando mi posso chiamare chef cos'è che devo fare legalmente cioè devo fare una certa scuola che mi dà un certo titolo di studio no ecco questo sembra assurdo ma ad oggi in Italia no invece è la busta paga che deve riflettere il fatto che tu sia uno chef piuttosto che un cuoco cioè finché nella busta paga c'è scritto che tu sei un operaio al quinto livello e quindi tu di fatto sei autonomo nel tuo lavoro ma non gestisci nessuno non hai responsabilità di nessuno e non coordini nessuno sei un cuoco magari anche il cuoco più bravo al mondo Gualtino Marchesi mi disse un giorno mentre stavamo assieme io sono un cuoco lo disse lui e non c'era niente di denigratorio lui diceva io amo cucinare io voglio cucinare datemi una casserola in mano io voglio cucinare quindi niente di denigratorio ma secondo una certa definizione se tu vuoi essere chef nella busta paga ci deve essere scritto che sei responsabile cioè che tu sei assunto a un certo livello del contratto collettivo nazionale per cui hai la responsabilità di altre persone in positivo e in negativo in positivo perché becchi qualche soldo in più in negativo perché poi le responsabilità ce le hai e ne devi rispondere esempio è responsabile secondo il contratto collettivo nazionale settore hotelleria e ristorazione in questo momento a oggi perché poi le cose possono cambiare dal quarto livello in giù cioè il quarto livello può essere responsabile il terzo lo è di sicuro il secondo a maggior ragione se sei chef di cucina dovresti essere almeno al primo livello e di ristoranti importanti sei un quadro quindi perché perché ti viene pagata la responsabilità non ti viene pagata la tua capacità di cucinare semmai la capacità di amministrare la cucina e quindi è ovvio che la busta paga questa cosa qui la deve reflettare in qualche modo dice ma io lavoro ma manco so che contratto collettivo nazionale non so manco che livello so che mi danno x e basta e appunto ecco allora questa è un'altra cosa che dobbiamo imparare e cioè dobbiamo saper leggere i documenti cioè uno chef deve saperla leggere nella fattura non solo la bolla deve sapere qual è la differenza tra una DDT e una bolla perché se no che amministratore è seppur piccolo è di piccoli gruppi cioè ci serve una conoscenza che vada un pochino oltre la cucina in sé e fatteli un po' di questi corsi in sostanza va bene e poi e poi esperienza io consiglio sempre ad un cuoco che voglia diventare chef di cambiare ristorante cioè certo che tu puoi diventare chef lavorando vent'anni nello stesso ristorante però è più facile se cambi ristorante cioè se tu ogni due o tre anni cambi ristorante ti viene più facile diventare chef perché perché vedi di più perché io se sono sempre nel stesso ristorante continuo a vedere sempre le stesse cose il che non vuol dire che io non possa diventare più bravo e così via però dico sempre faccio l'esempio del ballare tu se balli sempre con la stessa persona poi il giorno che ti ritrovi con uno sconosciuto non riesci più a ballare invece tu dovresti ballare con persone continuamente diverse perché ballando con persone continuamente diverse vedi molte cose capisci nuove aperture nuovi approcci riesci a guidare persone e così via se ballo io con mia moglie balliamo sempre io con mia moglie la prima volta che mi ritrovo a ballare con sua cugina sono fregato e magari me la prendo con lei dicendo che è lei che non è capace in realtà sono io che non so portare che è diverso va bene mi fermerei qui credo che le cose essenziali ve l'abbia detto e non voglio insomma annoiarvi più di tanto quindi come al solito ci salutiamo saluti baci abbracci ci vediamo al prossimo giro ciao